Benvenuto sul nuovo sito Star. Questo è il primo video di una serie di tutorial realizzati per mostrarti come sfruttare al meglio tutti gli aspetti più interessanti della nuova piattaforma star.it. Per entrare a far parte della nuova community basta che ti registri. È molto semplice, bastano pochi passaggi caricando i tuoi dati e la tua foto migliore. Per diventare un membro della community di Star basta confermare la tua registrazione con un semplice click dalla mail. Ora sei un membro ufficiale della community hai ottenuto il tuo primo badge, modello. Questo badge si ottiene caricando la tua foto del profilo.